Wabalaba dub dub e bentornati su No Mamamazzo. Ho finito adesso adesso di vedere il quarto episodio di Vandavision. Dal titolo interrompiamo questo programma e il titolo è appunto rappresenta quello che succede in questo episodio, ovvero finalmente vediamo le cose da un'altra prospettiva, finalmente scopriamo tutti gli altarini che ci avevano solo fatto intendere nei primi episodi. Innanzitutto una cosa fantastica quella che stanno facendo in quella che è a tutti gli effetti la fase 4 del Marvel Cinematic Universe, dei Marvel Studios, cioè oltre a usare i vari protagonisti mischiandoli in diverse pellicole come abbiamo visto, non lo so, Iron Man in Spider-Man, Iron Man in Capitan America Civil War, ora lo stanno facendo perché no, anche con i comprimari, cavoli se sono riusciti a farlo con attori da milioni di dollari come Robert Downey Jr., vuoi che non riescono a farlo con attori abituati a ruoli minori? Infatti vediamo la Darcy, interpretata dalla ragazza che fa Two Broke Girls per intendersi, Darcy che è l'assistente di Jane Foster in Thor e Thor Dark World, che collabora con l'FBI, quindi vediamo lo stesso personaggio collaborare con l'FBI, FBI rappresentato dall'agente U che abbiamo visto in Ant-Man, quindi c'è un incrocio di comprimari e vediamo niente po' di meno che la nipotina acquisita di Carol Danvers, di Captain Marvel, ormai cresciuta perché non siamo Captain Marvel, è ambientato negli anni 90, non siamo più negli anni 90, siamo nel 2020, questo personaggio che si chiama Monica, ormai cresciuto, è diventato un agente dello SWORD. Lo SWORD è un'unità come lo SHIELD nell'universo Marvel, che però si occupa non di avvenimenti terreni, ma di avvenimenti spaziali. Tra l'altro SWORD che abbiamo visto anche ospitare Nick Fury in una base spaziale nel finale di Spider-Man Homecoming. Abbiamo visto che il Nick Fury di Spider-Man, scusate Far From Home, il Nick Fury di Spider-Man Far From Home è probabilmente non solo quel Nick Fury, ma il Nick Fury da Avengers Age of Ultron in poi, non è Nick Fury, ma è uno Skrull che ha preso le sembianze di Nick Fury, quindi d'accordo con Nick Fury, cioè lo sta sostituendo sulla Terra, mentre Nick Fury pare sia, diciamo, molto tranquillo in una base nello spazio dello SWORD. Lo SWORD, vediamo che conta tra le sue file anche appunto Monica, la nipotina di Carol Danvers, la nipotina acquisita di Carol Danvers, che va in missione, in questa missione, unendosi all'FBI e a Darcy che come scienziata sta indagando su quello che succede a West, Westwood, non mi ricordo, scusate, lo sto facendo un po' così di botto il video, a quello che succede in questa cittadina, che è la cittadina dove appunto stanno vivendo Wanda e Visione, o così pare. La cosa buffa di questa cittadina è che non esiste, nessuno si ricorda di questa cittadina. scopriamo che c'è appunto questo campo di forza che già avevamo addocchiato nell'episodio scorso, quando Geraldine, che in realtà è Monica, viene sbattuta fuori da questo campo di forza. Vediamo che questo campo di forza è a tutti gli effetti uno scudo invisibile, nel senso che se ci passi attraverso non viene nemmeno più visto. questa Monica, che appunto poi diventa Geraldine, entra in questa realtà, viene assorbita da questa realtà e diventa parte di quella che è WandaVision, di quella che è a tutti gli effetti una sitcom, una rappresentazione di quella che noi in Italia chiamiamo la famiglia del mulino bianco, a questa visione di Wanda di una famiglia ideale, un luogo ideale dove lei può finalmente vivere con il suo amato Visione, che invece nella realtà è stato ucciso brutalmente da Thanos. Come già anticipato nelle mie recensioni scorse, molto probabilmente questo trauma ha fatto in modo che Wanda generasse una realtà idilliaca dove lei non sta vivendo questo trauma, non ha vissuto questo trauma, dove lei può vivere con la persona che ama. è una risposta psicologica naturale, ma quando si hanno i poteri che ha Wanda, il rischio è appunto la distorsione della realtà, cosa che sta avvenendo. Scopriamo che è proprio Darcy che riesce a scoprire come entrare in questo campo di forza, non personalmente, ma attraverso delle frequenze televisive molto vecchie, quindi prendendo dei televisori molto vecchi, per poi scoprire appunto a tutti gli effetti la sitcom che noi abbiamo visto negli episodi scorsi, con tanto di risate registrate, gag, eccetera, eccetera. Stanno scoprendo anche loro che mano a mano si sta andando avanti nelle decadi, quindi una sitcom degli anni 50 che poi è diventata degli anni 60 e degli anni 70. Molto probabilmente nel prossimo episodio vedremo gli anni 80, il prossimo episodio sarà il quinto, poi ci sarà il sesto anni 90 e poi una sitcom moderna, dovremo essere al settimo, quindi mancano ancora due episodi dei nove totali, quindi probabilmente ci saranno poi, non credo faranno degli episodi nel 2010 e nel 2020, è probabile che si arrivi a uno scontro finale nella realtà che vediamo. Se non l'avete notato, ve lo faccio notare io, ne ho parlato molto ampiamente nel numero scorso, qui non ci sono giochi di Aspect Ratio, la puntata, l'episodio è girato in formato CinemaScope, vediamo solo i quattro terzi all'interno dei televisori che gli agenti dell'FBI e della SWORD stanno guardando, stanno osservando, è una cosa molto curiosa che succede, cioè succede il contrario, da uno di questi televisori in quattro terzi, con un'immagine in quattro terzi, vediamo che l'immagine diventa in CinemaScope all'interno di WandaVision, quindi non so se da adesso in poi WandaVision non sarà più in quattro terzi, quando saremo all'interno di questo mondo e hanno usato questo espediente, oppure hanno voluto solo mostrare questo finale in formato CinemaScope proprio per, come si dice, testimoniare che in quel momento si era usciti dalla recitazione, perché in quel momento Wanda si è accorta che Geraldine è un'intrusa del suo mondo idilliaco e quindi non siamo più nella recitazione della sitcom, ma siamo in un momento dove Wanda, fuori onda, caccia Geraldine dal suo mondo, tant'è che quest'operazione non viene registrata dalle televisioni dello SWORD. Un'altra cosa che scopriamo, oltre al fatto che Wanda ha un'orribile visione di visione da morto, quindi lo vede, diciamo, come uno zombie, come un cadavere, quindi lo vede camminare, ma con l'aspetto che aveva quando Thanos gli ha strappato la gemma della mente dal cranio e vediamo anche che tutti questi personaggi comprimari, mi riferisco a quelli all'interno della sitcom, quantomeno, a differenza di quanto supponevo io nella mia recensione del numero scorso, non sono inventati di sana pianta, ma sono persone reali, prese e usate come attori, quindi probabilmente la cittadina esisteva prima, ma nessuno se la ricorda, come se non fosse mai esistita, tant'è che i poliziotti sono della città accanto, ma non ricordano questa città, quindi probabilmente prima la città esisteva, tutti se la ricordavano, finché Wanda non se ne è impossessata e probabilmente le persone che Wanda sta usando come personaggi di questa sitcom sono reali abitanti di questa città di cui nessuno ora si ricorda l'esistenza e Visione stesso molto probabilmente anche, questo spiega anche il fatto che sia stato mostrato per un secondo col suo aspetto da morto, Visione stesso molto probabilmente non è inventato di sana pianta, ma molto probabilmente è il corpo di Visione a cui Wanda sta dando vita artificialmente. Ricordiamo che comunque in questo universo i poteri di Wanda sono stati creati dagli esperimenti del barone Von Strucker usando lo scettro di Loki che contiene proprio la gemma della mente che poi è andata a finire nel corpo di Visione. Chissà che i poteri di Wanda non raggiungano un apice tale da ricreare, da ridare vita a Visione e dargli un'alternativa alla gemma della mente che adesso non ha perché appunto è stata usata da Thanos e poi distrutta da Thanos e per quanto riguarda invece la gemma della mente utilizzata dagli Avengers per il blip cioè per riportare tutti indietro è stata poi riportata al suo tempo. Chiuso discorso, parliamo un attimo del blip, vediamo finalmente una conseguenza reale molto grave del blip, cioè delle persone che sono tornate all'improvviso dal nulla dopo ben cinque anni. Lo avevamo visto in Spider-Man Far From Home nella scuola ma un conto è vederlo in una scuola, un conto è vederlo in un luogo dove davvero le cose possono mettersi male, ovvero un ospedale. In un ospedale sono stati blippati quindi sono tornati indietro un sacco di persone, quindi tra dottori ma anche ammalati che prima occupavano il letto e poi sono stati spazzati via da Thanos, ora tornano ad occupare questo letto. Di conseguenza ci sono tutti i problemi che possono succedere quando un ospedale viene intasato di colpo, cosa che purtroppo per quello che abbiamo passato l'anno scorso e tuttora stiamo passando non è poi tutta questa fantascienza. Quindi quando un ospedale viene intasato così tanto da pazienti poi collassa e quindi vediamo questo personaggio questa Monica che si risveglia proprio in questo ospedale, non era una paziente ma era una parente che andava a trovare appunto la mamma, la mamma che abbiamo visto sempre in Captain Marvel. Madre che appunto era lì per delle cure e che probabilmente stava superando ma quello che Monica non ricorda è che sono passati cinque anni e nel frattempo sua madre ha fatto tempo a riammalarsi e ad andarsene a morire lasciando sconvolta Monica e facendoci capire ancora di più in modo reale, passatemi il termine reale, quali sono stati gli effetti di aver riportato le persone cinque anni dopo, con un salto di cinque anni. Direi che è stato un gesto un pochino egoista di Tony Stark, l'ultimo gesto egoista di Tony Stark, egoista nel senso che per salvare l'esistenza di sua figlia Morgan ha riportato tutti a quando sua figlia Morgan aveva già cinque anni, era già cresciuta e quindi riportando le persone all'esatto presente non avrebbero influito in passato con gli eventi e quindi non avrebbero non avrebbe rischiato che Morgan non nascesse mai. Quindi questo è stato diciamo l'ultimo gesto nel suo comunque sacrificio altruista di riportare tutti indietro sacrificando la sua vita e di non toccare la vita di Morgan diciamo non ha tenuto conto di queste conseguenze. Ora non sto dicendo che Tony Stark è un egoista ma che molto probabilmente se le persone fossero tornate indietro nel momento della scomparsa e non cinque anni dopo non ci sarebbero stati tutti i problemi che la Terra e tutti gli altri pianeti dell'universo che hanno subito la dimezzazione si dice dimezzazione di Thanos hanno subito in questo caso. Quindi per salvare una vita che è quella di sua figlia Morgan ha creato tutti questi problemi e teniamo presente che con il guanto dell'infinito in mano avrebbe potuto fare entrambe le cose cioè riportare tutti nel momento in cui sono scomparsi e tenere in vita, fare in modo che sua figlia Morgan nascesse. Però questo credo sia anche colpa degli sceneggiatori molto probabilmente sarebbe stato più difficile per un pubblico cinematografico capire una cosa del genere. Questa è una cosa che forse si sarebbe potuta spiegare in un fumetto mostrando le conseguenze e facendoci capire bene cosa sarebbe successo ma in un in un contesto cinematografico soprattutto al terzo atto di un film di tre ore sarebbe stato molto molto difficile quindi diciamo che a causa anche delle conseguenze scelte dagli sceneggiatori di Avengers Endgame vediamo cosa è successo nella terra dopo questo blip. Quindi è stato anche molto carino vedere delle conseguenze reali non patinate non non edulcorate da questo regno che è il Marvel Cinematic Universe ma finalmente vediamo anche qualcosa di di reale. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo episodio io sono rimasto soddisfatissimo tutte le voci che c'erano sui personaggi tutte le illazioni che si erano fatte sui personaggi sono state tutte confermate quindi la nipotina di Carol Danvers, Darcy, l'agente Wood e l'NFBI sono stato molto felice di questa cosa io non ne ho parlato perché non mi piace parlare troppo di anticipazioni di personaggi che potrebbero o non potrebbero essere tali quando poi lo scoprirei la settimana dopo quindi di quello non mi piace parlare però mi piace parlare con voi della reazione che mi dà l'episodio dell'emozione che mi dà l'episodio quindi scrivetemi qui sotto nei commenti l'emozione che ha dato a voi questo episodio iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanella delle notifiche se non l'avete ancora fatto condividete il video con tutte le persone che conoscete che sanno modificare la realtà e commentate qui sotto con quello che sentite di questo episodio noi ci vediamo per WandaVision settimana prossima però ci vediamo se volete anche sul mio sito viola sul mio canale viola questa sera dove giocherò a Marvel's Avengers e chiacchieriamo un po sempre di WandaVision il link li trovate in descrizione non c'è la grafica perché questo video lo butto su così però trovate tutti i link in descrizione per vedere gli altri miei social io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci al prossimo video